Io adoro la plancia, la plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo l'abdominale Allora facciamo la prima plancia, posiziono per un minuto questa posizione che potrebbe essere allungata però di solito tra un minuto e l'altro io posso spostare il movimento della plancia Allora tiro su gli abdominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi che si stanno proprio avvicinando proprio una piccola trazione, gli abdominali sono molto tesi, tiro su i fianchi, tiro dentro l'abdome e lo proviamo a tenere al massimo un minuto, si può interrompere già a 20 secondi siamo già a 30 secondi ragazzi, complimenti, continuate a tenere questa posizione andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi ragazzi, tenete gli abdominali belli, tesi, 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 ok ci siamo, saranno l'ultima, 5, 4, 3, 2, 1 and relax ottimo, passiamo al prossimo esercizio adesso portate i fianchi in neutro, ok e le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate, faccio 1, 2 e cambio e cambio trattenendo proprio i vostri fianchi non farli muovere, non inercare la schiena e controllo ok ancora 45 secondi, continuo vai vai e controllo guarda l'ombelico ok, guardate il vostro ombelico trattenendo sempre l'abdome ok, ancora 30 secondi, continuiamo vai controllo abdominali tesi e tesi vai vai ancora 20 secondi più o meno continuiamo se ti da fastidio il collo potete tenere una mano indietro la nuca e l'altra che segue le gambe ok ancora trattengo ancora 4 3 2 relax passiamo al prossimo esercizio altra variazione sulle planche adesso facciamo con le braccia tese ok, braccia tese di nuovo un minuto questo punto quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra tra le mani e i piedi sollevo e porto la gamba destra in avanti portate le gambe destra in avanti proprio tira dentro l'abdome con tutti voi stesse ok, e faremo 30 secondi per gamba ok, 30 secondi per gamba ci manca ancora 5 e 4 e 3 2 e cambia la gamba vai in avanti sollevo tira su come se stessi provando di portare il ginocchio fino al tetto addominali tesi sorridete perché state facendo un bel lavoro trattieni la posizione ci mancano ancora 10 secondi vai 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 10 secondi ci mancano 5 secondi solleva trattieni l'abdome tieni la posizione ok appoggia e passiamo al prossimo esercizio eccellente questo esercizio è plancia laterale di nuovo lo terremo proprio per il minuto ok ci sono diversi modi che io posso tenere le gambe per questa plancia questo è abbastanza avanzato questo è ancora più avanzato questo magari è poco poco più facile e divaricare le gambe è ancora più semplice proprio per far sì che diventa diciamo in questo senso distribuisco al meglio il peso tra le gambe e il punto vita ok siamo a 28 secondi 30 secondi ok continuate di sollevare proprio l'anca su ok tira su tira verso su tira verso su continui ok ci siamo quasi dai tirati su tirati su minuto in diciamo complessivamente in minuto poi ci possiamo cambiare all'altro lato ok però ricordate a 20 o 30 o 30 o 40 secondi potete tranquillamente cambiare la posizione quando vi sentite troppo stanche passiamo dall'altro lato passiamo dall'altro lato andiamo a fare un minuto di plancia dall'altra parte di nuovo scegliete la vostra posizione diciamo che preferite un minuto da adesso sollevando da sotto provate di immaginare che state proprio stringendo ok le vostre abdominali tirali dentro sollevo dalla parte sotto braccia fanno andare su se vogliamo diventare veramente difficile possiamo anche alzare le gambe dipende da te ok perché ci sono diversi fattori che possono rendere una plancia più o meno difficile alzando le braccia alzando le gambe ok il tempo ok 20 30 40 minuto di tempo ok ci siamo ancora 25 secondi continuiamo tiri su quest'addome questa è la plancia laterale classico uno degli esercizi migliori proprio per il punto vita per quanto mi riguarda continuate 15 secondi poi cambiamo di nuovo l'esercizio plancia su plancia plancia su plancia eccellente per il nostro punto vita ultime 5 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio ecco andiamo al prossimo esercizio insieme questo esercizio si chiama Russian Twist lo potete fare con un peso o senza peso scendiamo giù a metà strada e cominciamo a girare il busto avanti e indietro ok destra e sinistra io spesso lo faccio questo con Thunderbell ok posso garantire anche senza Thunderbell funziona la grande ok abdominali tesi sempre tirando dentro l'ombelico più che possibile ok facciamo questi bel abdominali challenge me l'avete chiesto a me piace esaudire le vostre richieste ok ci mancano ancora 35 secondi ragazzi continuiamo destra e sinistra bella torsione abdominali tesi immaginate che state proprio massaggiando organi interni continuate vai 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 abdominali tesi ci mancano 15 secondi adesso 15 secondi vai 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 ultima ultimi 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 e 5 4 3 2 e 1 passiamo al prossimo esercizio bravi mettete le mani sotto le latiche ok tenete sollevate le spalle e flettete le gambe ok 8 7 6 5 4 3 2 relax ricupero 3 2 1 ricominciamo scendiamo 8 7 6 5 4 3 2 relax e tiriti su ricupero 3 2 1 continuiamo scendiamo giù 8 7 6 5 4 3 2 relax e su fantastici ragazzi ci siamo quasi 3 2 1 ricominciamo 8 7 6 5 4 3 2 and relax eccellente passiamo sul prossimo esercizio adesso facciamo un lavoro dove sono 8 gambe 8 spalle 4 4 4 2 a scendere ok così sollevo i fianchi 2 3 4 5 6 7 e le spalle vado 8 7 6 5 4 3 4 fianchi facciamo 4 3 2 4 spalle 4 3 2 2 e 2 glutei 2 2 spalle 2 2 1 2 andiamo in singolo fianchi spalle 2 chiudo 3 chiudo 4 chiudo 5 6 7 ancora torniamo su 8 8 7 6 5 4 3 2 spalle and 8 7 6 5 4 3 2 4 fianchi 4 3 2 4 spalle 4 3 2 2 fianchi 2 1 spalle 2 2 fianchi 2 and singoli fianchi 1 fianchi spalle 2 fianchi 3 4 5 6 7 8 eccellente passiamo sul prossimo esercizio altra variazione sulle planche adesso facciamo con le braccia tese ok braccia tese di nuovo un minuto questo punto quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra tra le mani e i piedi sollevo e porto la gamba destra in avanti portate le gambe destra in avanti proprio tira dentro l'abdome con tutti voi stesse ok e faremo 30 secondi per gamba ok 30 secondi per gamba ci manca ancora 5 e 4 e 3 2 e cambio la gamba in avanti sollevo tira su come se stessi provando di portare il ginocchio fino al tetto addominali tesi sorridete perché state facendo un bel lavoro trattieni la posizione ci mancano ancora 10 secondi vai 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 10 secondi ci mancano 5 secondi solleva trattieni l'abdome tieni la posizione ok appoggia e passiamo al prossimo esercizio eccellente